Il cappello del prete di Emilio De Marchi. L'incontro di stasera, cari amici, è su un romanzo del 1887, pubblicato poi come libro l'anno seguente nel 1888, un romanzo quindi nato come un romanzo d'appendice. Il cappello del prete di Emilio De Marchi. Ecco, dovete sapere che quando ho frequentato l'università ci avevano dato anche da leggere in un corso monografico il Demetrio Pianelli di Emilio De Marchi che poi sarà oggetto di una prossima diretta e sicuramente Emilio De Marchi ci è stato presentato dai professori universitari come uno degli scrittori lombardi più significativi della storia della letteratura e dell'ottocento. italiano. Chiaro che con questa eredità nel cuore ho sempre pensato di dedicarmi alla lettura dei romanzi di Emilio De Marchi. Lui è nato nel 1951 a Milano ed è morto sempre a Milano nel 1901 quindi la città diciamo in cui abito o quantomeno sono nell'Interland di Milano e quindi come vi stavo spiegando all'università di Milano sicuramente Emilio De Marchi è molto studiato ma credo che debba essere rivalutato anche in altre parti d'Italia. Insomma è vissuto 50 anni Emilio De Marchi. Effettivamente la gran parte delle sue opere sono proprio ambientate in Lombardia quella come il Demetrio Pianelli per esempio e si descrivono le classi sociali della Lombardia compresa quella degli operai e dei contadini soprattutto lombardi invece quella di cui parleremo oggi è ambientata a Napoli. Lui era nato da una famiglia veramente di condizioni modeste tra l'altro aveva perso il padre anche abbastanza abbastanza presto e si laureò a 23 anni nel 1874 in quella che poi sarebbe diventata l'università degli studi la statale insomma di Milano. divenne poi segretario e docente di stilistica in questa nella nostra università di Milano. Frequentò il mondo letterario milanese ecco che era piuttosto vivace all'epoca se pensate alla scapigliatura se pensate volendo anche a insomma a Verga al naturalismo perché Milano è sempre stata piuttosto vicina culturalmente parlando alla Francia a Verga che è passato da Milano ha scritto a Milano alcune tra le sue opere più significative dei veri e propri capolavori. Lui però non si dedicava solamente alla letteratura ma anche alla carità ai bisognosi insomma era uno che dava una mano a chi aveva bisogno e comunque non era molto per le mode ecco quindi abbiamo parlato prima che stavamo parlando prima di scapigliatura di naturalismo ma lui proprio anche quasi programmaticamente si voleva tenere lontano dalle mode dalle esasperazioni per esempio quasi mediche insomma dei di alcuni naturalisti ed era ancora abbastanza legato ad Alessandro Manzoni all'equilibrio e al rigore morale del realismo manzoniano del realismo lombardo era anche molto vicino quindi parlavamo di istituzioni caritative era anche molto vicino la chiesa cattolica milanese ciao intanto Simone Paoleschi fu fondatore di una rivista che si chiamava vita nuova e quando questa rivista poi si fuse con un'altra rivista radicale si dimise perché non condivideva quel tipo di idee allora si chiamavano radicali liberali e lui era piuttosto contrario a questo modo di pensare ecco il cappello del prete lo possiamo vedere anche in questa copertina no è veramente un romanzo importante per la storia della letteratura italiana perché praticamente il primo poliziesco italiano per esempio un certo Giovanni Rabboni che poi è uno storico della letteratura ha scritto proprio questo cappello del prete è proprio un noir alla Simenon scritto sei anni prima che Simenon nascesse quindi è per sottolineare il fatto che in un periodo in cui nella letteratura italiana non si sapeva neanche cosa fosse quasi il romanzo poliziesco Emilio De Marchi ne scrive uno è anche piuttosto articolato vedremo proprio come un vero e proprio giallo ecco qualcuno come il nostro Rabboni parla anche di noir perché il protagonista è insomma l'assassino lo possiamo dire perché tanto lo si viene a sapere subito ecco non è esattamente un giallo perché è un po la Colombo diciamo così la trama serve solo per farci capire come diciamo questo delitto teoricamente perfetto può andare incontro magari a qualche piccola falla e quindi si può incastrare l'assassino ma noi l'assassino non solo lo conosciamo ma assumiamo in un certo senso il punto di vista dell'assassino ecco perché Rabboni parla di un noir sappiamo infatti che nella letteratura noir noi non assumiamo il punto di vista dell'investigatore ma assumiamo il punto di vista dell'assassino spesso e volentieri io generalmente lo spiegavo così anche ai miei ragazzi al liceo nei romanzi noir alla fine la fa franca ecco il protagonista che è un cattivo però ecco non voglio adesso anticiparvi troppo subito qual è il finale anche se ricordate quello che vi ho già detto altre volte la nostra prospettiva con cui facciamo questi incontri questi video è una prospettiva didattica una prospettiva scolastica e quindi non è la prospettiva di chi fa una recensione per cercare di insomma di invogliare ad alla alla lettura o a comprare un libro ecco il successivo romanzo un altro capolavoro a fianco quindi lui ha due capolavori ecco che sono appunto il cappello del prete e demetrio pianelli e demetrio pianelli sarà scritto l'anno dopo nel 1889 sono anni cruciali nella storia della letteratura italiana se pensiamo al mastro don gesualdo al piacere di dannunzio insomma sono anni in cui si stanno scrivendo dei testi che in un certo senso o chiudono la stagione del verismo o aprono quella nuova del decadentismo prima per esempio ho fatto accenno al romanzo poliziesco e quindi ci viene in mente edgar all'ampo e infatti molti scrittori decadenti hanno proprio edgar all'ampo grazie per i cuoricini hanno proprio edgar all'ampo come un punto di riferimento per quanto riguarda il nostro emilio dei marchi però è più anche per una sua cultura diciamo per una sua conoscenza semmai è più dostoieschi a ispirarlo che non edgar all'ampo ecco quindi demetrio pianelli un'ambientazione completamente diversa milano invece che napoli la classe della borghesia invece che quella della aristocrazia decaduta chiamiamola così che vedremo protagonista nel romanzo di cui parliamo oggi sicuramente c'è qualcosa di diverso fra quello che sta facendo in quegli stessi anni giovanni verga con i vinti perché perché anzitutto demetrio pianelli non vuole scusate ho sbagliato emilio dei marchi non vuole essere un naturalista verista radicale quindi non crede e non propende per un'assoluta impersonalità oggettività della narrazione e infatti all'interno del romanzo spesso ci sono degli interventi del narratore perché lui segue la lezione manzoniana semmai e poi potremmo parlare proprio per usare le etichette più che divinti potremmo parlare di umiliati e offesi proprio per continuare insomma questa scia dostoieschiana che abbiamo intrapreso per per trovare un aspetti di chiave di interpretazione della della letteratura di emilio dei marchi dopo aver scritto il demetrio pianelli scrive un altro romanzo arabella che continua la storia di demetrio pianelli perché arabella è sua nipote anche lei destinata all'infelicità come il diciamo demetrio ma sempre con quella taglio particolare degli umiliati e degli offesi non è un ciclo dei vinti anche perché poi comunque si ferma a qui insomma l'analogia fra un romanzo e non costruisce dei cicli ecco emilio dei marchi con i suoi romanzi emilio dei marchi fu uno straordinario traduttore soprattutto la sua traduzione delle favole di jean de la fontaine è molto apprezzata dalla critica che ritiene che dei marchi sia riuscito a riportare nella versione italiana lo spirito del favolista francese mettendo in risalto l'ironia e la visione anche un po amara della vita si augurò la nascita di un forte partito conservatore nel saggio le forze conservatrici del 1898 e insomma erano quelli gli anni della questione romana e il nostro emilio dei marchi era molto lontano diciamo dai politici dell'epoca se avete letto i romanzi ecco spesso lancia delle frecciattine contro quelli che lui chiama i liberali no cioè quelli che sono al governo tra l'altro quelli che erano al governo all'epoca stavano già mostrando grandi forti segni di corruzione per quanto riguarda la pedagogia lui credeva nei valori tradizionali nella religione nella famiglia lo fece capire chiaramente nei suoi scritti l'età preziosa e i nostri figlioli primo manuale di educazione parentale e homeschooling anche perché portava avanti un po questo discorso non gli piaceva molto la scuola così come era gestita all'epoca la riteneva una specie di indottrinamento e quindi propendeva più quasi quasi per una per essere autodidatti piuttosto che seguire passivamente quello che lo stato e il governo imponevano che si dicesse alle maestre poi abbiamo già spiegato è stato un professore universitario di stilistica ha scritto lettere letterati del secolo diciottesimo per esempio cioè scritti di critica letteraria alla ricerca sempre di un contenuto morale nelle opere di letteratura pubblicò i suoi romanzi sui sui quotidiani perché aveva più o meno la stessa idea che aveva manzoni cioè che il romanzo insomma la letteratura dovesse essere popolare e che avesse anche una funzione educativa e pedagogica quindi non disdegnava assolutamente di scrivere romanzi d'appendice cioè che erano in appendice ai quotidiani adesso lo vedremo anche parlando proprio del cappello del prete come vi ho già spiegato prima lui è morto a milano nato è morto a milano però è stato sepolto nel cimitero di paderno d'ugnano questo è il motivo per cui per esempio nel 2020 a paderno d'ugnano si è tenuto un convegno insomma un omaggio a emilio de marchi definito così il gran lombardo il suo archivio tra l'altro è conservato presso il centro per gli studi sulla tradizione di manoscritta di autori moderni e contemporanei dell'università di pavia e io come ben sapete sono dirigente scolastico nei pressi di pavia andiamo finalmente adesso a parlare del nostro libro del libro appunto che ci interessa oggi particolarmente che il cappello del prete ve l'ho anticipato questo libro è stato pubblicato nel 1887 su due quotidiani su due giornali e l'anno dopo invece pubblicato in quanto libro ecco come vedete da questa locandina questo libro ha ispirato un film nel 1944 e qui indubbiamente questi due attori stanno interpretando l'uno il barone di santa fusca e l'altro e l'altra l'attrice insomma sicuramente sta interpretando marinella che è una delle donne del barone di santa fusca neanche l'unica ne parleremo il film del 1944 porta decisamente più a giustificare il barone e a presentarcelo come un uomo che tutto sommato appunto sperimenta una vita felice e forse magari nel 44 c'era anche desiderio no di distrarsi un po ecco vorrei giustificarla così l'interpretazione di questo film del libro del romanzo di emilio de marchi molto molto meno fedele rispetto al romanzo rispetto alla allo sceneggiato televisivo del 1970 di sandro bolchi regista famoso di sceneggiati che invece accoglie in pieno la prospettiva di emilio de marchi qual è la prospettiva di emilio de marchi ma l'abbiamo già detto è la prospettiva di uno scrittore morale che punta molto sulla moralità e questo personaggio il barone di santa fusca è un personaggio amorale che quindi non non può incontrare diciamo la l'approvazione dello scrittore come invece avviene in questa versione un po particolare del film del 1944 il barone di santa fusca assomiglia un po la raskolnikov del delitto e castigo oppure al protagonista del giocatore di dostoevsky a differenza però di delitto e castigo qui non c'è salvezza il nostro barone non incontra appunto una sonia quindi una donna santa una donna che lo porta sulla sulla strada del pentimento della confessione della redenzione castigo che si intuisce è un castigo che redime ecco nel caso del romanzo di dostoevsky no incontra appunto una marinella quindi una donna piuttosto futile è arrivato adesso il momento di leggere proprio la premessa o parti insomma della premessa che lo stesso autore appunto ha scritto perché fosse all'inizio della prima pubblicazione del libro in quel famoso 1888 quando quando per la prima volta il cappello del prete diventa un libro appunto perché era era nato l'anno prima come un romanzo d'appendice tra l'altro ebbe un successo straordinario fu tradotto in tantissime lingue qui vedete ad esempio la versione in spagnolo è il sombrero del cura il cappello del curato è il sombrero del cura cirillo il cappello del prete cirillo ma è stato tradotto subito quasi subito in tantissime lingue francese inglese eccetera ecco programmaticamente il nostro emilio de marchi dice subito per sgombrare il campo questo non è un romanzo sperimentale tutt'altro ma un romanzo di esperimento ecco perché è così interessante questo questo inizio di questa premessa perché lui l'abbiamo già spiegato prima non vuole essere assolutamente un naturalista e quindi non vuole seguire i dettami di emisola che saprete insomma ha scritto il romanzo sperimentale insomma non vuole seguire i francesi ma neanche senz'altro i veristi italiani e insomma in questa premessa magari non ve la leggo tutta però spiega e giustifica ecco il fatto che ha scritto un libro perché ha fiducia nei lettori nel senso che spesso si dà in pasto ai lettori quello che loro magari desidererebbero per svagarsi per distrarsi il pubblico è così calunniato proclamato come una bestia vorace che si pasce solo di incongruenze di sozzure di carni e i giornali a 100.000 copie credono necessario di servire a questo tipo di pubblico tra l'altro lo sapete benissimo anche giovanni verga ha scritto molti romanzi d'appendice molti romanzi borghesi romanzi di storie come dire intriganti ecco come dire è come se emilio de marchi dicesse guardate che però non è sempre così non è che il pubblico ha bisogno solamente di storie d'amore magari gli si può anche proporre qualcosa di più profondo e come questi che potremmo definire i suoi romanzi morali i romanzi di de marchi assolutamente e trovare comunque una molta attenzione e anche successo perché l'abbiamo già spiegato questo romanzo ebbe grande successo nel momento in cui fu pubblicato sia prima in appendice ai giornali perché erano i romanzi d'appendice spesso che facevano anche vendere di più i giornali quotidiani sia quando uscì diciamo in volume e anche fu tradotto come vi stavo spiegando tra l'altro la cosa strana fu pubblicato in due giornali uno l'italia di milano beh era solo la sua città milano e l'altro il corriere di napoli la città in cui era ambientato questo romanzo in questo romanzo infatti cioè non si parla male dei napoletani anzi assolutamente anzi con grande in maniera molto bonaria ecco e sì certo ci sono alcune delle fisse insomma dei napoletani in particolar modo quella della smorfia cioè del gioco dell'otto presente in questo romanzo ma vi ripeto con grande buonarietà e poi con tanti napoletani che affollano questo romanzo e alcuni di essi sono tutt'altro che buontemponi come il nostro barone protagonista del romanzo l'autore entrato in comunicazione di spirito col gran pubblico si è sentito più di una volta attratto dalla forza potente che emana dalla moltitudine e più di una volta si è chiesto in cor suo se non hanno torto gli scrittori italiani di non servirsi più che facciano di questa forza naturale per rinvigorire la tisica costituzione dell'arte nostra cioè l'autore lui parla in terza persona cioè emilio de marchi dice io comunque sono rimasto affascinato attratto da questa risposta del pubblico forse questo può servire per svecchiare un po la nostra letteratura che è un pochettino tisica cioè non ci propone ormai quasi più nulla di nuovo l'arte è una cosa divina dice ma non è male di tanto in tanto scrivere anche per i lettori e magari scrivendo per i lettori si scrive comunque anche qualcosa di artistico ecco nella sceneggiato di sandro bolchi del 1970 il ruolo del protagonista cioè del barone è interpretato da luigi vannucchi che già con sandro bolchi tre anni prima aveva interpretato il don rodrigo come potete vedere almeno i nostri amici di youtube in questa in questa slide noi da adesso in poi useremo molti fotogrammi da questo sceneggiato televisivo del 1970 pensate che era narratore quindi voce fuori campo possiamo dire in questo sceneggiato achille millo che è stato un grande lettore di poesia attore e poeta egli stesso e allora andiamo adesso a parlare del nostro romanzo proprio incominciando dall'incipit cioè dalle prime righe del romanzo che incomincia così il barone carlo coriolano di santa fusca non credeva in dio e meno ancora credeva nel diavolo e per quanto buon napoletano nemmeno nelle streghe e nella iettatura a vent'anni voleva farsi frate ma imbattutosi in un dotto scienziato francese un certo dottor panther perseguitato dal governo di napoleone terzo per la sua propaganda materialista e anarchica con la fantasia rapida e violenta proprio dei meridionali si innamorò delle dottrine del bizzarro cospiratore che aveva anche una testa curiosa tutto ossa tutta ossa con due occhiali di falco insomma un terribile fascinatore ecco chi conosce delitto e castigo noterà in questo incipit un'analogia con l'inizio di delitto e castigo infatti il giovane raskolnikov è affascinato dalle teorie nichilista stiamo leggendo un libro nichilista cioè stiamo leggendo padri e figli di turgenev che è un romanzo russo dell'ottocento e che sarà il prossimo romanzo di cui parleremo nelle nostre video dirette fra circa come al solito 15 massimo 20 giorni e quindi già nel libro di turgenev ci sono queste teorie queste dottrine nichiliste rivoluzionarie ovviamente siamo nell'ottocento quindi dalla francia spesso giungevano teorie di questo genere e il nostro barone di santa fusca viene subito tratteggiato come uno che aderisce a questo tipo di teorie per qualche anno il barone detto u barone alla napoletana lesse dei libri e prese la scienza sul serio ma non sarebbe stato lui se avesse per amore della scienza rinunciato alle belle donne amava le belle donne non era ovviamente sposato ne aveva tante al gioco ecco perché ho ricordato il giocatore di dostoevsky al buon vino del vesuvio amava bere e ai cari amici il libertino prese la mano sul frate e sul nichilista e dalla fusione di questi tre uomini uscì un barone unico nel suo genere gran giocatore gran fumatore gran bestemmiatore in faccia all'eterno ecco presentato il protagonista di questo romanzo intanto salutiamo teresa simone e diciamo che subito entriamo nella nella storia poi nella vicenda abbiamo detto che lui è un libertino abbiamo detto che è un gran giocatore a proposito di questo essere un gran giocatore c'è da dire che lui puntava con i locali tanti tanti soldi perché voleva appunto vincere ovviamente no solo che negli ultimi tempi le cose stavano andando molto molto male si puntava una carta poi invece il mazziere ne tirava fuori un'altra e chi aveva puntato perdeva tutto e solamente chi aveva indovinato quale fosse la carta che mazziere avrebbe tirato fuori dal mazzo solo lui avrebbe preso tutto il banco il malloppo se nessuno avesse indovinato il banco avrebbe si sarebbe arricchito il banco ecco giocando d'azzardo più e più volte come come quasi fosse una una sorta di malattia la ludopatia come che ben conosciamo noi il nostro barone di santa fusca era ormai quasi sull'astrico in particolar modo i suoi antenati avevano beneficiato un'opera di carità ecco ricordate il discorso che vi fatto prima i milioni dei marchi invece era un molto attivo in queste associazioni di carità ce ne erano tante alla fine del 1800 ad esempio c'era un veramente un movimento popolare di opere che venivano incontro alle esigenze della gente e accanto al movimento popolare tra virgolette socialista ce n'era anche uno cattolico ho letto molti libri su questa su questo argomento che si distinguevano proprio per l'attenzione per le persone che avevano bisogno no ora l'antenato di questo barone aveva dato molti soldi alla a questa opera di beneficenza no e quindi la il tesoro di quest'opera di beneficenza era stato affidato a lui poi era nato questo con questo barone scusate il carlo coriolano di santa fusca lui che cosa aveva fatto si era impossessato a titolo tra virgolette di prestito dei soldi di questo di questa opera di beneficenza buonasera michela e quindi poi qualcuno era andato da lui gli aveva detto ma insomma ma restituisci i soldi che hai preso impropriamente no e quindi il barone era veramente sull'astrico era in una situazione economica tremenda l'unica cosa che gli rimaneva l'unica ricchezza che gli era rimasta era una villa la villa appunto di santa fusca che era una bella villa del seicento insomma un mezzo barocco ecco che era piuttosto grande anche c'era un terreno che circondava la villa ma che era un pochettino lasciata a se stesso ecco lo stesso barone non era stato in grado assolutamente di mantenerla e conservarla nel modo migliore possibile ormai ecco si chiamava il sacromonte delle orfanelle quell'opera di beneficenza e tra l'altro appunto questo delegato del sacromonte delle orfanelle minaccia il barone che se non è in grado di restituire 15.000 lire allora 15.000 lire una somma esorbitante sarebbe stato denunciato allora il nostro barone che era già nell'albo degli insolvibili cioè di quelli sapete quando si emette un assegno in rosso perché già più e più volte ha chiesto credito a tutti non è in grado assolutamente di ripianare questo debito e quindi già si vede denunciato perché ha 15 giorni di tempo allora decide di rivolgersi al prete don cirillo detto preved che era dedito più al denaro però che alla missione religiosa infatti don cirillo il prete cirillo era un po un usuraio anche qua noterete una grande analogia con quella vecchia signora vi ricordate dell'inizio di delitto e castigo che prestava usura ai giovani che si trovavano in difficoltà avevano bisogno di soldi magari lì a san pietroburgo allora il barone propone al prete don cirillo la vendita del suo palazzo la villa dei santa fusca e don cirillo che conosce bene le ristrettezze economiche del barone offre 30 mila lire per quella villa il barone è scandalizzato da questa proposta perché la villa è enorme e appunto era anche un bellissimo palazzo grande con una tenuta intorno terreno vastissimo e quindi sicuramente valeva più di 30 mila lire però è messo alle strette il prete infatti eccolo qua lo vediamo vediamo un po don cirillo a qui abbiamo la copertina di una delle varie edizioni del cappello del prete vediamo se riesco a farvi vedere don cirillo è questo qua è interpretato da franco sportelli nello sceneggiato del 1970 questo qui a destra ovviamente ecco stavo dicendo quindi che il prete riesce a prende un po per il cappio il nostro barone stavo dicendo quindi che dice o ti prendi queste 30 mila lire o niente e poi devi anche sapere io so benissimo che c'è anche un'ipoteca su questa villa la villa è ipotecata e quindi quando lui comprerà questa villa per 30 mila lire dovrà poi versarne 10 mila per sbloccare questi quell'ipoteca che se non sbaglio sono dei soldi in buona sostanza che un marchese che spesso gioca anche a carte con il nostro barone ha dato al barone però appunto gettando quest'ipoteca sulla villa per cui se lui non è in grado di restituire anche questi 10 mila lire rischia davvero di perdere la villa per niente perché la villa è ipotecata il prete invece si offre di comprare la villa e pagare lui l'ipoteca delle 10 mila lire in buona sostanza il prete avrebbe sganciato qualcosa come 40 mila lire erano comunque poche in un certo senso il barone l'aveva l'aveva intuita questa cosa però non poteva fare altrimenti il prete era un po un usuraio come quella vecchia usuraia che venne uccisa da Raskolnikov all'inizio di delitto e castigo ma non ci può fare niente il barone per impedire questo che cosa succede dopo? succede che tra l'altro c'è da dire una cosa che il prete Cirillo, Don Cirillo è anche molto conosciuto a Napoli perché dà i numeri dell'otto è in grado di dare dei numeri che poi regolarmente escono e si è arricchito molto si è arricchito con i prestiti, con l'usura e si è arricchito anche con il gioco dell'otto ora a un certo punto succede che il prete Cirillo racconta confessa al barone che ha intenzione anche di andarsene via dalla città è sempre pressato dalla gente che vuole sempre questi numeri dell'otto ha anche parecchie persone che magari per quell'usura di cui vi stavo parlando prima gli vogliono del male quindi vuole scappare dice ascolta io ti pagherò questi soldi e poi me ne andrò via da Napoli quando il prete dice questa cosa al barone al barone viene in mente un'idea ma se io lo invito nella villa di Santa Fusca quando non c'è nessuno dal momento che lui non dirà a nessuno che prende i soldi per pagarmi e lo ammazzo e prendo i suoi soldi faccio anche del bene ecco ricordate Raskolnikov cosa diceva quasi quasi faccio del bene all'umanità perché questi usurai fanno solamente del male agli altri e così inizia a giustificare nella sua testa un eventuale delitto anche qua ricorderete Raskolnikov le prime cento pagine di delitto e castigo egli era profondamente persuaso che l'uomo è un pugno di terra che la terra ritorna alla terra e si impasta alla terra ormai lui è vecchio come era vecchio all'usuraia di delitto e castigo se lo faccio morire un po' prima del tempo comunque non è che cambia molto la natura ecco la natura in buona sostanza vuole che noi moriamo quindi che si muoia un po' prima un po' dopo non cambia molto la coscienza aveva scritto il dottor Panthère quel famoso nichilista rivoluzionario francese è un geroglifico scritto col gesto sopra una tavola nera si cancella così presto come si fa cioè si cancella così presto così come sorge la coscienza si può cancellare ben presto la coscienza è il lusso l'eleganza dell'uomo felice se la può permettere chi è felice io sono sfortunato sfortunato nel gioco fortunato in amore il nostro barone però insomma un po' troppo sfortunato e quindi non posso permettermi il lusso di avere una coscienza ricordate invece abbiamo detto sin dall'inizio che la cosa che interessava di più a Emilio De Marchi era proprio questa la moralità e Dio si chiede il barone Dio una capocchia di spillo puntata nel cuscino del cielo e qui ricordiamo anche le idee insomma dei deisti degli illuministi francesi Dio se c'è è lontano è lontanissimo e non ha nulla a che fare con la storia e con le con l'attualità e con le vicende degli uomini e così continua a pensare a rimuginare nei giorni seguenti Oprevet porta avanti il suo progetto cioè risolve tutte le questioni che aveva aperte e ritira tutti i soldi che ha per poter pagare il barone attenzione il prete è già d'accordo con la curia che è alla ricerca di una di una villa insomma che possa fungere sia da residenza di campagna dei monsignori sia da seminario e la curia è disposta a pagare centomila lire al prete Cirillo se gli venderà appunto la la villa di Santa Fusca Santa Fusca ah sì sì grazie grazie buona serata a Bime ciao ciao mi ha scritto un messaggio a Bime dopo lo leggerò stavo dicendo quindi ritira le cartelle di rendita si reca a Sacromonte per appianare il debito del barone ecco effettivamente va ad appianare il debito del barone il Sacromonte di Pietà vi ricordate quell'associazione di beneficenza che aveva chiesto 15.000 lire al barone e lui il prete riesce a a farsi perdonare insomma questo debito con 8.000 lire invece di 15.000 e poi passa in mezzo a Rione ai vicoli proprio napoletani e viene fermato da tante tante persone perché tutti vogliono i numeri del lotto da lui e tra l'altro ecco gli capita di vedere un povero cappellaio cioè un venditore di cappelli Filippo Mantica interpretato come vedete in questo sceneggiato da Antonio Casagrande un altro degli attori insomma molto famosi all'epoca no ebbene Filippo vuole vendere un cappello al prete Cirillo è un bel cappello è nuovo e poi oltretutto il prete Cirillo ha un piccolo debito con Filippo Mantica con il cappellaio e quindi gli chiede parecchie lire almeno 12 lire e allora sapete cosa gli dice il prete gli dice ascolta io ti do 6 lire per questo cappello nuovo e poi ti do 3 numeri da giocare all'8 3 numeri sicuri se li giochi vedrai che vincerai quindi non te ne do 12 lire te ne do 6 però ti do anche questi 3 numeri da giocare e così il nostro prete Cirillo se ne va verso la tenuta di Santa Fusca con un cappello nuovo il cappello del prete che lo si capisce dal titolo avrà un ruolo importantissimo si reca lì in quella villa in quella tenuta e insomma per farvela breve il il barone di Santa Fusca dice al prete Cirillo guarda purtroppo il notaio oggi non può venire ci siamo solamente noi due ma ti faccio vedere tutta quanta la villa l'interno della villa per dimostrarti che vale molto molto di più di quelle 30.000 lire che mi vuoi dare e ti faccio vedere anche l'esterno nel momento in cui il prete si accosta a un pozzo a una cisterna che c'è lì all'esterno il il barone lo colpisce violentemente e lo ammazza ora cosa fa poi dopo seppellisce il prete solo che nel momento in cui l'ha colpito alla testa è volato via il cappello e il barone non si è accorto che ha seppellito tutto del prete tranne il cappello quindi si compie il delitto a noi interessa però leggere quali sono le sensazioni dopo il delitto era naturale che egli provasse nei primi giorni qualche spavento cioè come dire è vero lui diceva di non avere più coscienza però un pochettino gli rimane nel cuore insomma un disagio perché ha tolto la vita ad una persona non si ammazza un uomo senza che il sangue non dia un tuffo un tuffo al cuore cioè un'ansia ecco la natura vuole la sua parte ma non più che una parte c'è una certa nausea che il barone era pronto a sopportare finché fosse passata quella nausea a poco a poco da sé prete Cirillo era una carcassa già sacra alla morte era uno insomma vecchio e stravecchio il tempo avrebbe distrutto a poco a poco ciò che la forza di un uomo distrusse subito lui ha semplicemente accelerato il corso della natura portava avanti le idee di quello scienziato di quel parterre insomma francese che ovviamente ci fanno venire in mente anche le idee insomma del darwinismo per cui insomma noi siamo votati a quello insomma ma questo è vero effettivamente c'è la dissoluzione del nostro corpo e lui si giustifica in questo modo si era giustificato prima di ammazzare il prete e si giustifica anche adesso quando dopo il delitto ci pensa era dunque questione di mesi e giorni che scompariscono in un gran numero di anni e sono nulla nel tempo senza fine sì sarebbe potuto andare avanti qualche giorno qualche mese magari anche qualche anno quel prete ma poi sarebbe morto come quella signora vi ricordate usuraia che Raskolnikov uccise e poi fu costretto anche a uccidere la sorella che era capitata lì per caso appunto da quella vecchia se al di là vi fosse veramente un dio pensava a suo dispetto il barone il quale dal suo trono di cartone d'oro giudicasse di queste faccende capisco io che starei fresco il giorno del giudizio e non avrei gusto di vedere risorgere il mio prete dalla sua cisterna ma poiché io sono convinto che al di là non c'è nulla e che il cielo non è che una soffitta dove collochiamo le idee che non usiamo più di chi e di che avrò paura delle ombre dei sogni del diavolo delle balle dei preti dunque da questa parte possiamo vivere in pace prete Cirillo non ha fatto che pagare un poco prima del tempo il suo debito alla natura e se lo meritava un poco perché egli era avaro una sanguissuga dei poveri e in fondo non cercava che di strozzar me pigliandomi per la gola nelle strette del bisogno un barone aveva bisogno di ripetere queste cose per inchiodarsene addosso ecco qua il narratore ricordate che nei Malavoglia di Verga non c'è mai l'intervento del narratore lì il narratore era nascosto qui invece il narratore è presente e dice aveva bisogno di ripetere queste cose per inchiodarsele indosso perché volente o non volente un po' di coscienza ce l'aveva e stava male gli aveva creato un certo disagio quell'uccisione e allora aveva bisogno di ripetere queste cose e ancora ancora diceva a se stesso tra me e lui si è combattuto la grande lotta lotta per la vita la vittoria come sempre fu del più forte vedi Charles Darwin cioè lo dice proprio esplicitamente Emilio De Marchi nel romanzo il riferimento al Darwinismo intanto che cosa succede a Filippo Mantica nel cappellaio succede che vince cioè che gioca a quei tre numeri dell'otto che gli aveva dato Prete Cirillo che escono quei numeri e lui vince 500.000 lire una somma enorme incredibile cioè altissima all'epoca milioni miliardi potremmo dire diciamo milioni ecco meglio e che cosa succede al nostro barone torna a giocare con i suoi amici tra virgolette e questa volta gli escono tutte le carte cioè vince la sorte che era sempre stata avara con lui con il barone adesso invece gli arride quando ormai non serve più perché magari se avesse avuto quei soldi prima non sarebbe stato indotto ad ammazzare il Prete Cirillo infatti quel capitolo che è il settimo della prima parte il libro si divide in due parti la prima parte la più lunga una quindicina di capitoli la seconda parte neanche una decina di capitoli si intitola troppa fortuna questo capitolo ogni capitolo ha un suo titolo anche qua grande differenza rispetto a Verga ovviamente sapete che in Verga non c'erano titoli non c'erano non c'era neanche se vogliamo una divisione canonica in capitoli troppa fortuna dopo il delitto le sue vincite al gioco gli permettono anche di cancellare l'ipoteca sulla villa che il barone doveva al marchese quindi addirittura sapete cosa fa gioca con il marchese dice ci giochiamo l'ipoteca lui vince il barone e quindi non ha più neanche l'ipoteca adesso gli va tutto liscio mentre prima gli andava tutto storto però è contento è felice soprattutto appunto adesso abbiamo detto la sorte gli arride poi le donne se la spassa con Marinella e non solo anche con altre donne ecco che cosa succede però dopo succede che c'era un custode nella villa di Santa Fusca che si chiamava Salvatore un poveraccio tra l'altro viveva veramente in condizioni penose e il barone non gli dava mai il necessario per vivere anche perché usava tutti i soldi per i suoi vizi comunque sta di fatto che da un giorno all'altro Salvatore muore per un ictus per un colpo si dice proprio nel romanzo e quindi arriva nella casa di Salvatore il prete per il funerale che sarebbe poi Don Antonio nel romanzo interpretato dall'attore Ugo D'Alessio nello sceneggiato è Don Antonio il parroco di Santa Fusca cioè di questo soborgo della campagna un po' non vicinissimo insomma a Napoli che cosa succede succede che arriva il prete per questo funerale e appoggia il suo cappello lì nella stanza nella casa di Salvatore che era morto insomma così per un colpo improvviso quando va via il prete inavvertitamente invece di prendere il suo cappello prende un altro cappello da prete che era quello che vi ricordate era volato via quando il prete Cirillo era stato ucciso dal barone di Santa Fusca quando arriva a casa poi lui tra l'altro ha anche se non sbaglio un certo Martino che lo aiuta penso sia una specie di sagrestano gli confida che si è accorto che il cappello che lui adesso ha è un cappello molto più bello rispetto a quello che aveva prima nuovo ricordate infatti che il prete Cirillo l'aveva comprato nuovo da Filippo Mantica e comincia ad avere un po' di scopo e di coscienza ma in un primo tempo dice visto che Salvatore non aveva soldi e non ha potuto pagare né lui né i suoi parenti il funerale adesso ho questo cappello che mi compensa di questa mancata offerta per il funerale poi però continua a rimuginare su questo fatto e ha grandi sensi di colpa non è giusto non è mio questo cappello è troppo bello è troppo nuovo e così cerca di restituirlo e alla fine quasi per caso scopre che nel cappello all'interno del cappello c'è scritto il nome del venditore che è il cappellaio Filippo Mantica Filippino Mantica che è quello che ha vinto all'otto e tra l'altro quindi cominciano a comparire sui giornali queste notizie primo che Filippino Mantica ha vinto all'otto con i numeri che gli ha dato Prete Cirillo perché la notizia arriva anche ai giornalisti secondo si comincia a parlare sui giornali di questo cappello perché perché Don Antonio spedisce letteralmente questo cappello a Filippino Mantica con una breve lettera di accompagnamento intendo restituire questo cappello che non è mio mi scuso se l'ho tenuto per un certo periodo di tempo ma poi dopo appunto siccome è una persona molto onesta Don Antonio ha deciso di restituirlo visto ha trovato questo nome scritto all'interno del cappello almeno di restituirlo al venditore che sicuramente aveva più diritto secondo lui di averlo di tenerlo con sé rispetto allo stesso Don Antonio che cosa succede poi succede che Filippo Mantica spiega alla giustizia che ha ricevuto da Don Antonio il cappello che lui però aveva venduto al Don Cirillo e Don Cirillo non si vede più da giorni e giorni da una settimana passa una settimana passano 15 giorni passano 20 giorni la gente comincia a leggere articoli di giornale che fanno ridere tutti su questa storia che è abbastanza intrigante la storia prima della vincita di Filippo Mantica e poi la storia di questo cappello di questo prete e questo prete scomparso e invece incominciano a turbare il barone di Santa Fusca perché lui sa bene invece che fine ha fatto il prete perché l'ha ammazzato e cominciano quindi a insinuarsi degli spaventi delle paure nel cuore del barone di Santa Fusca e soprattutto arriva a un certo punto a casa sua il monsignore che ha l'incarico proprio di cercare una nuova sede per il seminario e questo monsignore qua va proprio dal barone offrendo non dico centomila euro scusate centomila lire lire non euro ma addirittura centosessanta mila lire per la villa per la tenuta di Santa Fusca e il nostro barone è sconvolto perché dice mamma mia se fosse venuto prima mi avesse offerto prima queste centosessanta mila lire tutti i miei problemi economici si sarebbero risolti e io non avrei neanche pensato di ammazzare un uomo per avere dei soldi guardate che ha ammazzato il prete perché aveva con sé trentamila trentamila lire e mi vengono sempre in mente gli euro invece che le lire ora la cosa che l'ha sconvolto però è il riflettere sul fatto che cioè vede il cappello di questo monsignore e gli viene in mente che lui ha sepolto tutto del prete Cirillo ma non ha sepolto il cappello si vede che l'ha perso che non si è accorto che era volato via e questo lo angoscia perché quello era stato veramente un delitto perfetto mai nessuno sarebbe sognato di andare a cercare il cadavere del prete Cirillo lì nella sua tenuta però quel cappello avrebbe potuto portare gli investigatori a Santa Fusca lui è consapevole di questo e quindi incomincia ad avere molte molte paure si rincorrono le voci sulla vincita di Filippino Mantica e poi le voci su questo cappello e ci sono articoli di giornale sulla perdita del cappello cioè il ritrovamento meglio del cappello e invece la l'assenza del prete Cirillo allora che cosa fa lui anzitutto il barone dice se il cappello è volato via magari intuisce quello che effettivamente è successo magari il cane di Salvatore l'ha portato da Salvatore e Salvatore l'ha tenuto nella sua povera dimora che è quel custode che ricordate che avevo spiegato prima era morto e quindi cerca il cappello nella casa di Salvatore ma gli spiegano che aveva portato via tutto quanto un parente di Salvatore Giorgio che era un'oste che aveva un'osteria alle falde del Vesuvio chiamata proprio l'osteria del Vesuvio allora lui che cosa fa il barone dice voglio recuperare a tutti i costi questo cappello si traveste da cacciatore e va in questa osteria del Vesuvio quindi va da Giorgio e gli chiede di questo cappello dice che l'ha lasciato lì Don Antonio che ne ha bisogno Don Antonio se lo fa dare e Giorgio glielo dà Giorgio si fa pagare perché è un'oste il cibo e la bevanda che il nostro presunto cacciatore che poi in realtà è il nostro barone ha preso nella sua osteria ma non si fa pagare per quel cappello a questo punto lui è tranquillo sapete cosa fa il nostro barone prende questo cappello lo getta a mare e ritorna nelle braccia di Marinella interpretata da una splendida Angela Luce cantante e attrice napoletana e si dà la pazza gioia pensa che ormai la questione sia risolta solo che poi gli capita di leggere su un giornale che in realtà il cappello vero del prete Cirillo è in mano alla giustizia e si e si perché adesso vi spiego quello che lui ha preso all'osteria del Vesuvio da Giorgio il nipote di Salvatore non era il cappello di prete Cirillo ma era il cappello che Don Antonio aveva lasciato per sbaglio nella casa di Salvatore quando era andato lì per il funerale di Salvatore e quindi lui è angosciato da questo a questo punto cosa fa? incomincia a tradirsi si tradisce con Don Ciccio un investigatore che siccome era stato addirittura anche incarcerato l'oste Giorgio dal momento che ormai tutti avevano in mente che probabilmente chi aveva preso il cappello aveva ucciso il prete Cirillo allora avevano messo in carcere l'oste cioè avevano messo in carcere Giorgio ma Giorgio in carcere aveva confessato di aver dato il cappello a un cacciatore allora che sia stato questo cacciatore l'assassino senza sapere che il cacciatore era proprio il barone travestito da cacciatore allora il nostro barone legge tutti questi articoli giornali incomincia ad andare nel panico incomincia a contraddirsi a non essere coerente soprattutto quando viene interrogato da da un investigatore ah sì questo è invece il momento insomma in cui lui si dà la pazza gioia uno dei capitoli della seconda parte del romanzo si intitola proprio così l'orgia per rappresentare insomma i vizi insomma cui lui si lascia andare beveva l'assenzo liquore si dava a donne faceva di tutto quando era felice tranquillo e sereno ma adesso è nuovamente turbato e ancora di più lo sarà quando sa che sulle sue tracce c'è il Cavaliere Martellini il Cavaliere Martellini è un giudice un giudice assolutamente incorruttibile al quale è stato dato l'incarico proprio di indagare sulla sparizione del prete Cirillo allora quando sa di questo sapete cosa fa altra mossa che in un certo senso insospettisce chiede al giudice Cavaliere Martellini di non essere interrogato subito perché ci sarebbe stata una grande corsa di cavalli e lui tra l'altro era un grande scommettitore tra i suoi vizi c'era anche questo allora il giudice Cavaliere Martellini e poi dice sarà possibile non interrogarmi su queste faccende io avrei voglia avrei desiderio di andare a Parigi il giudice Martellini invece sapete cosa dice un po' la Colombo ha già forse intuito qualcosa dice no no vabbè d'accordo lei vuole andare alle corse ci vengo anch'io alle corse perché tutti comunque erano molto appassionati di corse anche questa è una cosa io quando per esempio avevo i miei parenti a Napoli siamo andati più e più volte all'ippodromo di Agnano dove la gente a Napoli almeno quando ero giovane bambino quindi sto parlando di una cinquantina di anni fa scommetteva molto all'ippodromo di Agnano sulle sulle corse e quindi c'è proprio anche un capitolo su questa corsa di cavalli anche in questo caso va tutto per il verso giusto al barone nel senso che vince anche scommettendo sul cavallo giusto però il giudice Martellini dice che il giorno dopo avrebbe avuto bisogno comunque di disturbarlo un poco cioè di chiedere due o tre cosette insomma riguardo alla inchiesta all'indagine che sta svolgendo ora il giudice Martellini che tra l'altro non era come Don Ciccio che sin dall'inizio non credeva che l'oste fosse l'assassino o sin dall'inizio aveva dei sospetti Don Ciccio no invece il cavaliere Martellini procede in maniera molto razionale è il nostro diciamo investigatore anche se ripeto compare solo la fine del romanzo e non è come nei romanzi dei grandi investigatori quindi di Poirot Miss Marple Magret che sono anche Sherlock Holmes che sono i protagonisti del romanzo lui compare solo alla fine Mariano Rigillo lo conoscerete è un attore qui delle sue prime prove tra virgolette è stato un grandissimo attore ma anche Vannucchi anche attori di teatro oltre a essere attori appunto di sceneggiati televisivi stavamo dicendo quindi che il cavaliere incomincia a fare delle domande che stringono un po' il cerchio intorno al barone e quindi lui il barone dapprima nega ma poi non può ecco riuscire a negare tutto e anche persino indotto dalle sue stesse incoerenze da un meccanismo interno psicologico incomincia a tradirsi incomincia ad essere incoerente incongruente a contraddirsi e alla fine confessa di aver ucciso il prete nella sua villa ma come abbiamo già detto all'inizio del nostro incontro questa confessione non è una liberazione come nel caso di Raskolnikov e il romanzo si conclude in questo modo egli parlava confusamente ridendo fischiando urlando di filosofia del dottor Panter di corse di cavalli di carte di donne di prete Cirillo lo chiamava per nome lo beffeggiava lo avvertiva di non fidarsi del cacciatore che voleva ammazzarlo e urlando queste cose ha fatto capire all'investigatore cioè al giudice Cavaliere Martellini che il cacciatore era proprio lui si incastra anche da solo il nostro barone di Santa Fusca alla fine di questo romanzo benissimo siamo arrivati al momento dei saluti finali anche noi e